e ha costruito questa scheda in cui ci racconta da Torino a Bari come le due vicende diventano un fatto politico, come ricordava. È curioso, Davide. Da Torino a Bari, da nord a sud, da est a ovest. Il campo largo trema sotto il peso di tre inchieste. Partiamo da quelle di Bari. Il volto dello scandalo, lo diceva prima Ludovica Ciriello, è l'oramai ex assessore ai trasporti della Giunta Emiliano, Anita Mauro di Noia. Anita Mauro di Noia, assessore al PD, ha una carriera politica molto variegata e segnata da tantissimi successi che le sono valsi il titolo di regina delle preferenze. Inizia a destra con il movimento politico pugliese Schittulli e poi arriva al Partito Democratico transitando dal movimento del marito sud al centro. Davide prendeva così tante preferenze che arrivò a vantarsi di prendere più voti nominali di quanti ne prendesse Tatarella in Puglia e addirittura ne prese di più di Silvio Berlusconi. E ricordiamo che Tatarella è stato uno dei... ...grande politico pugliese, della destra pugliese. Pugliese, uno degli uomini forti di alleanza nazionale, prima dell'aumento sociale, una storia politica. Siamo all'inchiesta perché tutto sta in questo rapporto di coppia tra l'anità Mauro di Noia e il marito Sandro Cataldo, ideatore di quel metodo Sandrino di cui ancora parlava prima Ludovica Ciriella. Sandro Cataldo è agli arresti con l'accusa di corruzione elettorale. Di fatto comperava voti per 50 euro ciascuno e addirittura in certi casi con delle bombole del gas. Addirittura, Davide, c'era una contabilità precisa che consentiva a Cataldo di elencare le persone a cui era stato comperato il voto e poi verificare la loro effettiva presenza al seggio e poi la corrispondenza dei voti. Secondo la procura c'era una specie di archivio, deve essere tutto dimostrato. Secondo la procura, ma la cosa curiosa qual è? Che c'è la prova, c'è la pistola fumante in questo caso, che sono delle carte. Sono delle carte che sono state trovate subito dopo le elezioni comunali a Trigiano in un cassonetto e qua dentro c'erano proprio dei faldoni con le fotocopie delle carte d'identità degli elettori. Trigiano è una cittadina che sta nell'Interland barese. E questa è la seconda inchiesta che ha fatto tremare il potere a Bari. La prima è dentro le viscere stesse della città capoluogo. È l'inchiesta codice interno. Fine febbraio 130 arresti. Le infiltrazioni criminali dentro l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici da cui emergono anche un sistema di voti di scambio. In questo caso a catturare voti ancora una volta per la moglie, sembra un gioco delle coppie, Giacomo Livieri agli arresti in carcere a Brindisi per favorire Maria Carmen Lorusso, che si presenta alle ultime comunali di Bari sostenendo il candidato avversario di De Caro, ma che poi da Forza Italia transita ancora una volta nel partito di Sandrino Cataldo, su dal centro e finisce per sostenere De Caro. È sospesa dal Consiglio Comunale. Questa è l'inchiesta per la quale il Comune rischia lo scioglimento. Da Bari ci spostiamo invece al nord, Torino, dove questa inchiesta è Chidna. E Chidna è un nome misterioso perché è un mammifero molto curioso, perché è uno dei pochi mammiferi che fa le uova e ha anche caratteristiche anatomiche abbastanza irriferibili. Caratteristiche anatomiche irriferibili? Vabbè, lo andrete a vedere su... Ma qui non parliamo di zoologia, parliamo di appalti, appalti che riguardano le autostrade. La A32 in particolare, la Torino-Bardonecchia, emerge da questa inchiesta un verminaio di appalti controllati dalle andrine. E nell'ambito di questa inchiesta emerge anche la figura di un ex politico che non ha nulla a che fare con la criminalità organizzata, ma con reati comunque pesanti, peculato, estorsione, corruzione elettorale. Il politico è Salvatore Gallo, RAS del Partito Socialista a Torino, poi è arrivato nel Partito Democratico, che da ex dirigente, alto dirigente, dell'autostrada, che cosa aveva in mano? Aveva la possibilità di fornire, torniamo un attimo al cartello precedente, di fornire dei pass, dei lascia passare, per attraversare una delle autostrade più care d'Italia, la Torino-Bardonecchia. E in cambio di questo favore ne otteneva degli altri. Questo sempre secondo le accuse. Questo sempre secondo le accuse. E quindi in questo sistema di favori, ovviamente si arrivava anche al mercato elettorale. Qual è il problema? È che Salvatore Gallo, oltre ad essere uno delle anime di una corrente politica torinese, e anche il papà di Raffaele Gallo, capogruppo del Partito Democratico e Consiglio regionale, e impredicato di essere capolista nella circoscrizione torinese. In ragione di questo scandalo, Raffaele Gallo ha deciso di dimettersi, pur se non indagato. Pur se non indagato, ma dettaglio non da poco. E quindi ha deciso di fare un passo indietro, adesso il PD deve risolvere anche questa grana. Grazie, grazie a Magneto.